In altri video dedicati al narcisismo ho spiegato le caratteristiche del disturbo narcisistico di personalità. In questo video vorrei chiarire le origini, come nasce il disturbo e perché ha a che fare con la lotta di potere per il controllo. Innanzitutto diciamo che il narcisista reprime tutto ciò che potrebbe renderlo vulnerabile, quindi nega i sentimenti e in particolar modo nega la paura. Non si può permettere il lusso di desiderare veramente qualcuno perché questo desiderio lo esporrebbe al rischio di essere lasciato, perciò per paura di essere lasciato nega il suo bisogno dell'altro, in quanto questi potrebbe rifiutarlo. Quindi l'impossibilità di legarsi stabilmente a qualcuno è una difesa narcisistica contro possibili ferite dovute all'abbandono. La paura stessa viene negata perché senza paura il narcisista si sente meno vulnerabile. I suoi ideali sono l'indipendenza, il coraggio e la forza e con questa immagine in testa nasconde a se stesso la sua fragilità. Dunque il narcisista reprime i sentimenti, perciò la sua forza non è reale, è piuttosto illusoria e non essendo sostenuta dai sentimenti viene compensata dalla ricerca di potere. Il potere gli dà l'illusione di energia, gli conferisce una potenza grandiosa che altrimenti non avrebbe. Ma il potere del narcisista è un potere di distruzione che nasce da una ferita narcisistica subita nell'infanzia. Questa ferita consiste nell'essere stato umiliato e nell'aver subito un vissuto di impotenza. Naturalmente non basta una singola esperienza a formare un carattere, ma se il bambino è continuamente esposto a umiliazioni si struttura nella sua psiche una paura dell'umiliazione. Tanto che crescendo dirà a se stesso quando sarò grande diventerò potente e non mi potrete più umiliare. Iniziamo a capire che potere e controllo vanno insieme perché controllare la situazione fa sentire il narcisista protetto dall'umiliazione. Potere e controllo sono le due facce della stessa medaglia e sono il modo elettivo con cui il narcisista risponde ad un antico tradimento perpetrato ai suoi danni. A volte alle sue spalle, come per esempio può essere un ricovero coatto o semplicemente un cambio di scuola senza l'avvertimento da parte dei genitori. Questo è un bambino che non ha voce in capitolo, non può protestare e forse non può neanche strillare, deve solo subire. Perciò non stupisce che da grande svilupperà tratti narcisistici. La famiglia del narcisista è tipicamente una famiglia umiliante nella quale ci sono continue lotte di potere per la supremazia dei membri. In molti casi questa supremazia si bassa sulla forza fisica del più grande che sottomette il più piccolo, sia esso figlio o fratello. Per fare degli esempi le famose sculacciate sono una forma comune di abuso fisico e diventano ancora più umilianti se il bambino è costretto a mettersi in posizione per ricevere i colpi, oppure deve andare a prendere lui stesso lo strumento con il quale verrà punito. Poi ci sono dei genitori che intensificano le botte se il bambino piange, come se gli negassero il diritto di esprimere la sofferenza. Queste punizioni sono una dimostrazione di potere da parte dei genitori. Oltre alle umiliazioni fisiche ci sono quelle psicologiche, ad esempio si critica il bambino facendolo sentire stupido. Ci sono dei genitori che quando il figlio piange addirittura lo accusano di falsità, facendo commenti sarcastici sulle sue lacrime di coccodrillo. Questa è mortificazione, una strategia che rende estremamente insicuri perché umilia la vittima nella sua umanità calpestando la sua individualità. Molti genitori neanche si accorgono di sbagliare. Il loro è semplicemente uno stile educativo e viene naturale pensare che questi adulti ripetono sui figli lo stesso trattamento che hanno ricevuto dai loro genitori. Poi bisogna pure considerare che i bambini sono gli oggetti più a portata di mano per sfogare frustrazioni di ogni tipo. I genitori che si sentono impotenti nella vita possono rifarsi comportandosi da dittatori con i figli. Ora l'accentuazione del potere genitoriale conduce inevitabilmente i figli alla ribellione o alla sottomissione, ma la sottomissione nasconde un sottostante atteggiamento di ostilità. Il bambino che si sottomette impara che i rapporti sono governati dal potere e questa è una premessa perché da adulto lotti per ottenere questo potere. In pratica il bambino finisce per giocare lo stesso gioco dei genitori. Può anche succedere che per avere potere sui genitori e ribaltare la situazione il bambino faccia qualcosa che li turba, come ad esempio non mangiare o andare male a scuola o fumare. Questi sono tutti comportamenti distruttivi con cui il bambino ricatta i genitori. Ecco che tra genitori e figli si instaura una lotta di potere in cui nessuno dei due vuole cedere e nemmeno può vincere però. Il guadagno è zero, è un gioco perverso a somma zero. Ora in tenera età, quando sono molto piccoli, i bambini sono indifessi e lì si può controllare facilmente. Per i bambini più grandi si può raggiungere questo scopo con la seduzione. Ad esempio promettendo al bambino un trattamento speciale o una maggiore intimità se si adeguerà ai desideri dei genitori. Sono ricatti subdoli, sono delle manipolazioni velate. Tra l'altro la lotta per il potere tra un genitore e il figlio è di solito una parte di un gioco più ampio, di una grande lotta per il potere che è in atto tra marito e moglie, che crea insicurezza e instabilità in tutto il sistema famiglia. Capiamo quindi perché ogni narcisista ha una profonda paura delle umiliazioni e vediamo come nella sua immagine grandiosa sia implicito un senso di inadeguatezza. Il potere serve a proteggere da queste umiliazioni. È un mezzo per superare il senso di inferiorità e di impotenza. Poi aggiungiamo che chi è sessualmente impotente desidera avere potere per compensare la situazione fisica. Le cose si complicano notevolmente nella fase dipica ma non vorrei entrare in dettagli teorici. Mi interessa spiegare come il genitore che seduce sia anche un genitore che rifiuta. E per il bambino non c'è via d'uscita se non quella di sopprimere i sentimenti, il che equivale ad una castrazione psicologica. Da qui nasce la ferita narcisistica ed è ovvio che non può esserci amore in un rapporto quando il potere manipolativo ha un ruolo determinante. Di conseguenza la fase dipica non può essere superata. Perciò come può la persona trovare mai il partner giusto? Prima o poi si dimostrano tutti deludenti e nella relazione emergono vissuti di estraneità. Bene, i narcisisti da un lato si lamentano di essere bisognosi d'affetto ma non si sentono mai abbastanza riconosciuti e accettati perché il loro bisogno orale di dipendenza e di protezione rimanda ad una conflittualità infantile. In realtà il narcisista pretende un'attenzione accondiscendente che è solo un tentativo di esorcizzare la sofferenza della solitudine e a questo punto cosa fa? Sostituisce la realtà interiore con la realtà esteriore. Dunque il compito terapeutico diventa chiaro, è quello di fecondare questa interiorità vuota andando proprio ad animarla. Pertanto scavare nel passato del narcisista per scoprire eventuali traumi rimossi non basta. L'opera di ricostruzione psicologica dovrà accompagnarsi all'inserimento di nuovi elementi nella vita della persona in modo tale da ristrutturarla e consentirle di raggiungere una nuova consapevolezza. La consapevolezza di doversi legittimare da sé senza dipendere da nessuno e generando la coscienza della propria individualità. Questo però implica una concezione dell'esistenza come rischio e apertura, dunque la capacità di inventarsi giorno per giorno. Ora c'è un passaggio molto importante in terapia che è questo. La riscoperta del mondo dei sentimenti si traduce in una riscoperta del proprio potere creativo. Quindi sono i sentimenti che innescano il processo trasformativo nel paziente e in tutto questo l'eros è la scintilla che apre la via alla conoscenza interiore. Perciò il sentimento va accolto in uno spazio simbolico dove può essere indirizzato verso la crescita. Solo così si può superare il dolore che ha costretto la persona a costruirsi una corazza inaccessibile che però ha reso la persona estranea alla vita e quando la vita è tradita finisce per condannare chi non l'ha amata. E allora se il compito siamo noi stessi, il mancare a questo compito è un vero e proprio tradimento di se stessi. Questa è la colpa fondamentale di cui il narcisista si macchia, l'essere chiuso in una coazione a ripetere che ha sclerotizzato la sua esistenza. Il narcisista tradisce se stesso in quanto la negazione dei sentimenti gli impedisce di trovare una realizzazione creativa. Creativa significa appunto una modalità personale di riscattarsi attraverso i sentimenti, facendo della ferita narcisistica un centro propulsivo che renda la persona più sensibile alle ragioni del cuore. Bene, come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube dove troverete tantissimi video su vari argomenti di psicologia, dal narcisismo alla dipendenza affettiva, dalla manipolazione agli attacchi di panico, video su come realizzare voi stessi, interpretare i sogni, comprendere gli altri. Se vi iscrivete al canale youtube verrete informati sulla pubblicazione dei nuovi video. Potete trovarmi anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho creato una pagina chiamata la mia psicologia. Ogni posto è pubblico quindi non serve chiedermi l'amicizia. Inoltre ho un sito che è www.robertoruga.it dove troverete esercizi di rilassamento, fantasie guidate, pubblicazioni, tra cui un libro. Infine vi informo che faccio consulenze psicologiche con la videochiamata su la videochiamata su whatsapp oppure consulenze telefoniche. Per cui potete contattarmi al numero che compare sotto nella descrizione del video oppure potete scrivermi a r.ruga.virgilio.it. Buona giornata a tutti, in bocca al lupo!